barbara d'urso barbara d'urso ospita eliseo bonanno a pomeriggio 5 nel secondo appuntamento settimanale di pomeriggio 5 la padrona di casa barbara d'urso ha ospitato in collegamento un santone anche se lui non si definisce così stiamo parlando di eliseo bonanno che si fa definire vero profeta di dio ma le dichiarazioni di quest'ultimo fatte in diretta su canale 5 hanno letteralmente fatto arrabbiare barbarella come lui stessa l'ha chiamata punto in un primo momento l'uomo si è lamentato con la professionista napoletana perché il giorno prima l'intervista è saltata per dare spazio ad antonella e giovanni i genitori di miriam che è venuta a mancare a sole 5 anni mentre stava studiando danza visibilmente irritata lady colugno ha sbottato così non permetterti di paragonarti a una mamma di una bambina morta a 5 anni io ti faccio delle domande alle quali tu rispondi non chiedi a me di fare un comizio o un monologo carmelita perde le staffe con il vero profeta di dio a quel punto eliseo bonanno ha cercato di difendersi dicendo a barbara d'urso che è molto abile a girare la frittata in poche parole il santone si è sentito preso in giro dalla conduttrice di pomeriggio 5 e ad un tratto ha perso pure la pazienza infatti colui che di definisce vero profeta di dio ha accusato carmelita di cambiare le sue parole facendo passare dei messaggi errati punto l uomo testa che da oltre 30 anni parla col signore che gli appare come una visione nei sogni o anche da sveglio a quel punto la professionista partenopea le ha chiesto in che modo gli parla gesù il diretto interessato ha replicato così in sogno in visione fa udire la sua voce come faceva con i profeti nel vecchio testamento continua dopo la foto eliseo bonanno e barbara d'urso botta e risposta tra eliseo e la d'urso l'intervista di barbara d'urso ad eliseo bonanno si è rivelata molto più ostica del previsto nonostante i vari battibecchi tra i due carmelita ha mantenuto la calma e non lo ha mandato a quel paese come di solito fa prima di chiudere il collegamento la padrona di casa di pomeriggio 5 ha chiesto al santone di presentarle la moglie che ha 27 anni punto a quel punto il vero profeta di dio ha sbottato così non te ne frega niente di mia moglie e della differenza d'età le di colugno ha concluso in questo modo sono a favore della differenza d'età e non puoi dirmi che non deve fregarmi niente altrimenti tua moglie non doveva stare vicino a te segui contro cultura su instagram clicca qui ciao 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 Grazie a tutti.